Ciao raga, benvenuti in un nuovo video SMS Allora, prima di tutto mi vorrei scusare per i soliti rumori che sentirete Allora, questa, uno, russa, fratello, due, i papagalli, come al solito e tre, probabilmente i vicini faranno casino Allora, sono tornata finalmente con un video di True Crime Adoro farli E per favore, se avete delle richieste di casi specifici, scrivetemelo nei commenti Iniziamo Il caso di oggi, come avrete detto dal titolo, sicuramente è l'omicidio di giorni versate Guarderò spesso qui, probabilmente per tutta la durata del video Quindi spero non vi dia fastidio perché leggerò appunto tutto il caso da un articolo di Roberta Zuccarello Voglio dare i crediti perché ovviamente non ho fatto, non sono miei ricerche, sono ciò che ho trovato sui interni E nel 1997 è ricordato come l'anno in cui venne giù il secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti di Bill Clinton E' l'anno in cui morirono Maria Madre Teresa è Lady Diana Spencer Quell'anno per oggi un evento che sconvolse il mondo Ma che venne presto o fosfato dall'incidente di Lady Diana a Parigi Tra l'altro se volete posso fare un video solo Lady Diana Perché la sua vita, la sua morte molto interessante e molto losca Si tratta della morte dell'ostilista Gianni Versace Tra l'altro amico proprio della principessa di Galles Ma andiamo con ordine Gianni Versace nacque a Reggio Calabria alla fine del 1946 Si interessò subito alla moda grazie all'infanzo della madre Che aveva una boutique di sartoria al centro della città Boutique che avrà il marchio Versace primordiale Nel 1972 aveva appena 25 anni Gianni si trasferì a Milano Lavorando come designer per Gianni Complice e Calligan Nel giro di tre anni riuscì a creare la prima collezione di abiti in pelle per complice Credo si dica così complice Ah no, non l'ho mai sentito Mentre nel 1978 presentò per la prima volta la collezione a marchio Versace Un passo dopo l'altro Gianni Versace divenne uno degli stilisti più rivoluzionari del mondo dell'alta moda Forse più di Coco Chanel Con il suo tweet è il completito smoking da donna di Yves Saint Laurent Paragonabili solo a Calvin Klein Il primo stilista che togono i blue jeans è in una salata Le origini calabresi di Versace lo aiutarono molto a impadronirsi nel mondo della moda A differenza di altri stilisti Già affermati tutti gli altri Le origini milanesi o comunque del nord Italia Versace rappresentò una vendata di novità Con stampi colorate di chiara ispirazione greca e mediterranea tipiche della sua calabria Bellontane della fantasia grigie e monotene che avevano caratterizzato l'alta moda fino a quel momento Inoltre lo stilista fu proprio il primo in Italia a voler rendere l'alta moda accessibile al grande pubblico Passando i prezzi e stringendo una solida collaborazione diventata poi una sincera amicizia Con il fotografo Richard Avendon Cominciò a disegnare i costumi per le produzioni del teatro della scala Sia per le opere litiche sia per i palletti Stringendo così le prime amicizie importanti al di fuori del mondo della moda Gianni non nascose mai il proprio rendimento sessuale Nel 1982 cominciò una relazione con Antonio Temico Per entrambi fu la relazione più importante della loro vita Gli anni 80 furono decisamente il decennio d'oro di Gianni Versace Nell'83 tenne una conferenza sul lavoro al Victoria and Albert Museum di Londra Nello stesso anno partecipò anche a un'esposizione al Padiglione d'Arte Contemporanea a Milano Nel 1986 ricevette il titolo di commentatore della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Gossiga Lo stesso anno il presidente francese Jacques Chirac gli conferì l'ora unificenza Cante Medaville del Vermille de la Ville de Paris Gianni Versace più dei suoi colleghi intuì il potenziale di avere molte modelle di fama internazionale Anzi fu lui il primo a modellare l'idea del super top model L'idea evangelista Naomi Campbell, Cindy Corford e Claudia Schiffer Questi sono alcuni dei nomi della rosa delle top model che hanno sfilato per lo stilista calabrese Versace era anche un amante della musica e affascinato dalle rock star E di nuovo ebbe l'intuizione di sfruttare l'immagine delle rock star Soprattutto le più amate delle nuove generazioni Per pubblicizzare il suo marchio Già tra il 1980 e l'83 Lo stilista riuscì a convincere più di una volta anche Madonna Ad essere una testimonial della sua casa di moda Oltre a collaborare con Sting e John Bon Jovi Nel 1996 il famoso rapper Tupac Sfilò per lui durante la settimana della moda a Milano Fu un grande amico anche di Elton John Con il quale si impegnò a fondo per la ricerca contro l'AIDS Tra gli altri amici famosi spiccavano fra tutti Woody Allen e la principessa Diana Il nome di Giovanni Versace venne dunque associato Oltre alle pastarelli di moda anche al divertimento sfrenato Alle feste extra lusso e al sesso Gli venditi si svolgevano nella villa anni 30 Che lo stilista acquistò con il compagno Antonio D'Amico a Miami Un palazzo che venne pagato circa 10 milioni di dollari Mentre la situazione è in questo 33 Adesso ci avviciniamo al caso vero e proprio Quando si trovavano a Miami Di solito era un assistente ad uscire la mattina A prendere i giornali per la coppia Eppure il 15 luglio 1997 Fu Giovanni stesso a uscire per andare a comprare il giornale Fece pochi scalini per rientrare nella villa Di ritorno dal mio caffè Quando venne colpito da due colpi di pistola Uno alla nuca e uno alla guancia Venne immediatamente scorso dal compagno Antonio E' da Lazzaro Amico della coppia E' trasportato d'urgenza al Jackson Memorial Hospital Dove morì poche ore dopo la polizia E' solo un indizio sul quale passare le indagini Ovvero l'arma del diritto I brugliettili usati per uccidere Gianni Appartenevano a una pistola Taurus La stessa già usata per altri amicidi commessi in precedenza Quindi la polizia così iniziò la ricerca Di Andrew Cunan Andrew nacque il 31 agosto del 1969 Da padre filippino americano E la madre italo americana Quando nacque il padre era ruolato nella U.S. Navi in Vietnam Ma una volta rientrato a casa Lavorò come agente di cambio A scuola Andrew si fece notare per la sua loquacità E la sua spiccata intelligenza Ma anche per le sue epurgie Raccontava su di lui e sulla sua famiglia Capì il proprio orientamento sessuale Proprio durante gli anni scolastici Intraprendendo diverse relazioni con uomini più grandi di lui Nel 87 Dopo il diploma Si iscrizze alla facoltà di storia americana All'University California Di San Diego Quando aveva 19 anni Il padre abbattò una famiglia E gli Stati Uniti per rifugiarsi nelle Filippine Una fuga che lievitò la condanna Per approvazione indebita Andrew Bagliato dalla prospettiva di una vita aggiata Nelle Filippine Abbandonò l'università Gli Stati Uniti per raggiungere il padre Ma desilloso dallo stato di povertà estrema del genitore E dallo stile di vita misero In cui versava il genitore Appunto Decise di tornare in California Un giorno Poco dopo il suo rientro La madre scoprì l'orientamento sensuale di Andrew Che nel frattempo Aveva cominciato ad avere relazioni con uomini facoltosi Poteva dunque permettersi un tenore di vita abbastanza giato La donna profondamente religiosa Decise di affrontare il figlio Il quale la spinge contro il muro E le slogò una spalla Successivamente Successivamente studiando i suoi comportamenti Quindi si scoprì che Andrew Cunnan Soffriva di un disturbo antisociale della personalità Associato alla mancanza di empatia Oltre alla psicopatia Con il tempo Trasformò le sue relazioni con gli uomini In un vero e proprio lavoro Diventò quindi un cicolò Entrando nel giro del Nel giro Cominciò ad essere dipendente dalla droga Soprattutto O piace cocaina E marijuana Cominciò a usare nomi falsi Cunnan Incontrò lo stilista Gianni Versace Nel 1990 In occasione Della prima del capriccio Di Richard Stras Per il quale Versace Disegnò i costumi Anche se la famiglia dello stilista Ne go sempre A mezzo l'episodio Nel dicembre Dello stesso anno Andrew Conobbe in un bar David Manson Un architetto di Minneapolis Con il quale è pieno dell'azione seria Che non durò molto Nella primavera Dell'anno successivo Manson Decise di rompere con Cunnan Dopo che Qualcuno Gli rivelò qualcosa di Oscuro Su di lui Cunnan invece Si riferiva a Manson Come l'amore della mia vita Succedo tra le braccia di Norman Blackford Benestante Più anziano di lui Che lo spitò in casa E li perlutò Molti soldi Ma tutto fine settembre Compreso il salto Delle carte di credito Di Blankford Andrew poi Strinza amicizia Con Jeffrey Trial Un ex marine Che confidò Al suo ex compagno di stanza Che Cunnan Aveva cominciato A spacciare droga Soprattutto metanvitamine Da cui era dipendente Nell'aprile del 97 Cominciato a buttare Anche di antitolofilifici E alcol Lascia San Diego Città in cui abitava Per raggiungere Jeff A Minneapolis Sappiamo che Trial aveva paura Della visita Di Andrew Rivelando a Michael Williams Il suo ex compagno di stanza Mi sono fatto molti nemici Questa settimana Di vantare a me Da qui Mi uccideranno Quindi Anche Questo Jeff Aveva paura Di essere Di venire ucciso Da Andrew Andrew Coman Cunnan Scusate Partecipò A una festa Al California Cousin Di Hillcrest Insieme a Quattro amici E per la prima volta Non riuscì a pagare il conto Perché aveva raggiunto Il tetto massimo Di spesa Delle sue carte di credito Tanto che dovette chiedere Di alzare il limite Per potersi permettere Il biglietto aereo Per Minneapolis Una volta arrivato Cunnan All'oggiò Nell'appartamento Di Mazzons L'uomo della sua vita Anche a sua volta Era amico di Jeff Insomma C'è un po' Un imbroglio qua Non lo so Vabbè Il 26 aprile Jeff Era fuori città Con il suo partner E Cunnan Si trasferì Nel suo appartamento Quindi Quando poi Jeff Ritornò Da questa Cosa Fuori città Trovò l'appartamento Vuoto Quindi Jeff Lascia la propria Abitazione Attorno alle 21 Arrivo da Mazzon Verso Le 21.45 Con la scusa Di andare a recuperare La pistola rubata Da Andrew Appena Jeff entrò Nell'appartamento Cunnan Lo picchiò a morte Con un martello Sotto gli occhi E sterfatti di Mazzon Questo Non lo sapevo Le ricerche Per Jeff Cominciarono Qualche giorno dopo Quando i colleghi Si stupirono Per la sua stanza Da lavoro Il cadavere Venne ritrovato In casa Di Jeff Avvolto in un tappeto Nascosto Dietro un divano Assurdo Non lo sapevo Allora La furia di Cunnan Si spostò A Chicago In Illinois Per abbattersi Sul 72enne Lee Mingling Celebre agente immobiliare La vittima Ebbe mani E piedi legati E fu poi Impapagliato Con un nastro adesivo Venne poi Trafitto Con meno di 20 Volte Dalla punta Di un cacciavite La gola Gli fu tagliata Con un seghetto La famiglia Era convinta Che fosse frutto Di uno sbacevole caso Ma l'FBI Ricostruendo il portfoglio Di Cunnan Ritenne strano Che si impegna Impegnasse Tanto Senza un movente La prima cosa Che venne notata Dall'investigatori Fu la sparizione Dell'auto Della vittima Una Lexus Verde Della 94 Che aveva come opzional Un telefono cellulare E La compagnia telefonica Si riuscirono Grazie alla compagnia telefonica Riuscirono a costruire Gli spostamenti Dell'assassino Che il 9 maggio Si fermò In New Jersey Qui si regò Al cimitero Dove uccise il guardiano Di 45 anni Ma Questo pazzo Senza nessun motivo Ammazza persone Così Vabbè Quella sera L'uomo non torna a casa E la moglie Insospettita Andò a cercarlo Nel cimitero Dove la trovò La porta L'ufficio aperta E la radio è accesa Allarmata Chiamò la polizia Che lo cercò Che lo trovò Ucciso Con un colpo Sparato alla testa Dalla stessa pistola Che poi ha uccise Gianni Versace Ovviamente Cunanan Ha rubato L'automobile dell'uomo Per poi raggiungere La Florida Vicino alla villa Dello stilista Venne ritrovato Quella macchina Che aveva rubato All'ultimo Che aveva ucciso Questo Il guardiano Del cimitero Insomma Con i vestiti Di Cunanan Ma l'assassino Non si è per notizia Fino a quando Il suo cadavere Non venne ritrovato Su un'imbarcazione privata A seguito Di una segnalazione Per un colpo Di pistola Morirono così Due uomini Legati solo Della morte Da una parte Un assassino Che è ucciso Spinto dalla follia Dall'altra Uno degli stilisti Più visionari E rivoluzionari Del suo tempo I funerali Di Versace Si svolgono a Milano A cui parteciparono Personaggi Di ogni ambiente Lo stilista tedesco Carl Langerveld Il coreografo francese Maurice Il cantante inglese Elton John E Lady Diana Di Gianni Versace Ressono lo spirito Di innovazione E la creatività Che pochi altri Sono riusciti Deguagliare Rendendo Kindersale Una delle sue creazioni Spesso molto ardita Una vera Celebrità Così finisce la storia Del suo omicidio Ora Tutti sappiamo Che la casa Versace Continua Ad essere Una delle più grandi Case di moda Che la sorella Di Gianni Donatella Sta continuando Il suo lavoro Per fortuna Insomma Mi dispiace Molto per lui Lui Cioè Hendrick Unanan L'omicida Non sarà il killer A quanto pare Perché Ha ucciso Più di tre vittime Non aveva davvero Alcun movente Se no La follia Non lo so Ditemi voi Cosa ne pensate Se siete arrivati A fine del video Grazie mille Per averlo visto Vi auguro Una buonanotte Spero vi abbia rilassato Un po' E vi abbia Intrattenuto Buonanotte 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 Buonanotte